Ora possiamo vedere insieme come costruire una stella a quattro punte partendo da un quadrato. Quindi costruite un quadrato, potete farlo anche di 4 cm come ho fatto io, 4 cm, 4 cm e 4 cm. Nominiamoli così A, B, C, D i punti del quadrato, quindi lato AB, lato BC, lato CD, lato DA. Ora per costruire una stella a quattro punte è facilissimo, si apre il compasso, volendo si può aprire anche il doppio di 4, quindi di 8, oppure a piacere. Possiamo partire da qualsiasi punto, partiamo per esempio dal punto B, puntiamo il compasso su B e tracciamo un semicerchio leggero. Puntiamo su C e tracciamo un altro semicerchio. Si è formato un punto d'incontro che chiamiamo E. Andiamo avanti, puntiamo adesso su C, tracciamo un semicerchio, puntiamo su D, tracciamo un semicerchio. Si è creato un altro punto d'incontro che chiamiamo F. Io sto andando in senso anti-orario, vedete, prima ho iniziato da B, ho puntato su B, poi ho puntato su C, poi su D, ora io continuo da D e traccio un altro semicerchio. Poi vado su A e traccio un altro semicerchio. Ecco un altro punto d'incontro che chiamiamo G. Ultimo passaggio, puntiamo su A, semicerchio, puntiamo su B nuovamente e facciamo un altro semicerchio. Punto d'incontro, ultimo punto d'incontro. H, punto H. Adesso non ci resta che unire. A, H, B, H, B, E, C, E, C, F, D, F, D, G, A, G e avremo formato una stella a quattro punte. Ed ecco il prodotto finale. Possiamo cancellare tutte queste parti. E colorarla a piacere.